...e spiegano il rapporto di 4 metri e 40, sono 8 giri da compiere, prima batteria con 20 partiti... ...rebecca dove vorrei, sono quasi in maggioranza, attenzione Maschietti, fai attenzione Filippo Rollo, Francesco Arruetti, Leonardo Zafferri, Luca Fulchini, Lorenzo Pensoffini... ...ecco partita, questi fanno 8 giri... ...eccoli un quadro molto lontano, secondo passaggio degli atleti, sfilati in fila indiana... ...cruppo ancora compatto... ...3, 2, 3... ...cruppo ancora compatto con lo ultimo che si è un pacaccio... ...eci di sommare del centro... Grazie a tutti.